Si è proclamato innocente a Nicola Mancuso, il giovane arrestato ieri mattina perché è ritenuto l'assassino di Valentina Salomone, la ragazza di Biancavilla, trovata morta con una corda al collo la sera di 24 luglio di tre anni fa in una villetta nelle campagne di Adrano. Assistito dall'avvocato Saro Pennisi, Mancuso è stato interrogato per tre ore dal gruppo Francesca Cercone, presenti anche i PM Salvatore Scalia e Sabrina Gambino della Procura Generale, che hanno avvocato l'inchiesta dopo che la Procura della Repubblica aveva chiesto l'archiviazione dell'indagine ipotizzando il suicidio. Incredulo di trovarsi in carcere, secondo quanto ha riferito il suo legale, Mancuso ha respinto ogni accusa escludendo che la macchia di sangue ritrovata sotto la scarpa della ragazza possa essere sua, puntualizzando di essere sicuro di non avere perso sangue quella sera. L'indagato ha anche detto di essere sicuro di non essere più tornato dopo la festa nella villetta. Il giovane, che è sposato e padre di tre figli, ha anche parlato di una relazione avuta con Valentina Salamone, di una storia però finita senza alcun astio tra lui e la giovane, senza mai essere stata rivelata, tanto che sua moglie è venuta a sapere del suo tradimento dalle televisioni locali. Mancuso ha anche detto di non essere mai stato prestato dalla giovane a lasciare la sua famiglia. Nel caso di Valentina Salamone, un cold case è stato riaperto su pressioni della famiglia della ragazza che non ha mai creduto al suicidio. L'input nell'indagine è emerso dopo che i carabinieri del Ril si hanno trovato una macchia di sangue con una miscela di genotipi, quelli suoi e quelli di Nicola Salamone, che era presente alla festa assieme ad una ventina di altre persone. Secondo la procura generale, a compiere il delitto sarebbe stato lui con l'aiuto di almeno un complice che non è stato ancora individuato.